Maglio Di Stefano. Guardi, io dopo le campagne storiche della Lega Nord con l'inno al Vesuvio che doveva bruciare i napoletani e tutto quello che abbiamo sentito, una frase come a rischio l'esistenza della razza bianca credo che non sia equivocabile. Siamo di fronte purtroppo a una campagna elettorale che vedrà da una parte l'ottimo messaggio di Papa Francesco, ovvero chi arriva deve ovviamente rispettare legge e tradizioni del popolo che lo accoglie ma ovviamente rispettandole deve essere anche integrato. Dall'altra parte c'è il rischio che una coalizione come quella del centrodestra che professa ancora oggi nel 2017 odio razziale e discriminazione di qualunque genere possa andare al governo. L'appello mio a tutte le persone serie per bene italiane è evitare che ci sia una nuova era Berlusconi e Lega Nord.